Il tema non è solo sanitario ma anche sociale. Oggi più che mai lo si coglie anche parlando con i medici di base, i professionisti più vicini ai cittadini, che quotidianamente si fanno carico delle preoccupazioni di chi non riesce a fissare prenotazioni in tempi rapidi. Sono le parole del capogruppo regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, che ha voluto tracciare un bilancio su tematiche riguardanti la Asle di Teramo, in particolare l'annoso problema delle liste d'attesa ma anche la questione della realizzazione del nuovo ospedale, per cui Mariani chiede chiarezza su fondi e locazione. Naturalmente sappiamo che ci sono dei tempi d'attesa addirittura a volte di un anno o due, ho detto più volte, che attendere per una piccola chirurgia, per una neoplasia anche benigna, spesso possono avere delle evoluzioni in fauste, quindi portare a dei quadri più gravi, più severi e portare spesso il paziente anche ad un livello di irrecuperabilità e morte. Quindi questo è qualcosa che ci deve preoccupare, che deve far sì che l'Asle per un'attacca, per una risonanza, per una chirurgia, abbia a cuore i propri cittadini e metta in campo tempi più stretti, più veloci, perché parliamo del diritto alla salute. Secondo aspetto sulla costruzione del nuovo ospedale, che è un qualcosa che naturalmente sta assumendo delle forme bizzarre, perché la regione ha delegato la Asle, che ancora non ci dice dove reperirà le somme che mancano, che sono circa 160 milioni di euro, dove verrà costruito questo ospedale, perché sappiamo anche che migliaia di cittadini si sono espressi in maniera chiara sulla location, quindi merita un approfondimento, mi avviso. Terzo aspetto, il concorso osse infermieri, che è un qualcosa che naturalmente è stato affrontato con una esosità importante, perché questi concorsi costano migliaia di euro. Ci sono tantissimi partecipanti che hanno superato le prove, che aspettano di essere assunte e l'Asle non si pronuncia su questo. Sempre sul fronte delle liste d'attesa, Mariania ha anche proposto una soluzione per alleggerire di molto la problematica. Acquistiamo più prestazioni dai privati. Se serve per dare una risposta sanitaria adeguata, ben venga, prima la salute, poi le battaglie ideologiche e divisioni. Prima la salute della nostra gente e dei nostri cittadini. Grazie. Grazie.